altra puntata del caldari story eccoci qui a formia con alessandro e federico ciao ragazzi tostissimi allora qui la storia è una sequel a puntate quindi caldari story ci siamo lasciati a sanremo al marino degli aregai cosa è successo in questi due mesi alessandro questi due mesi ci siamo allenati parecchi abbiamo cambiato un po di regolazione in barca per prepararci qua forme che ci aspettavano sette giorni di regata e ne abbiamo già fatti sei oggi è l'ultimo siamo lì che ce la giochiamo dobbiamo far bene anche oggi tata notizia i caldari hanno cambiato le regolazioni in barca fermi tutti si può dire cosa possiamo dire che avete cambiato allora avevamo provato innanzitutto un paio di vele nuove della nord sale sempre però siamo venuti qua sempre con le stesse qua non abbiamo stravolto tanto abbiamo rivisto un po gli assetti per le varie condizioni perché c'eravamo preparati a avere abbastanza vento qua quindi un po abbiamo rivisto come portare la barca in base alle onde che ci sono qua al vento che c'è qua e le centrature alla fine sono sempre le stesse perché quello che conta la fine come portiamo la barca in base a quali sono le condizioni che troviamo in mare quindi abbiamo diciamo riassettato quello che può essere il nostro la nostra maniera di portare la barca ogni regata importante giusto ogni singola prova non solo la classifica complessiva di una coppa italia di una tappa di coppa italia qui dieci giorni a formi a lunghi con la pasqua e tutte le feste due tappe di coppa italia però ogni prova contribuisce al punteggio della ranking in palio ci sono sei posti per il mondiale qualcuno due o tre per l'europeo mi sembra e soprattutto uno per il world sailing la giovanile il mondiale youth qual è la vostra il vostro obiettivo preferito ovviamente l'obiettivo è quello del mondiale youth che ci va il primo siamo ce la stiamo giocando ancora con demetrio e gabriere centrone e con tommaso cilli e bruno di sanremo manca oggi e ravenna per per vedere siamo siamo lì vicini tutti e tra bisogna ogni prova conta perché su una ventina di prove che faremo ce ne scartiamo due prove quindi anche quando si è 25 e arrivare nei venti conta anche quello conta tutto bello ragazzi è quindi capito seguitela questa cosa perché è una bella volata ravenna ci saranno c'è un gran finale ravenna dove ovviamente noi saremo presenti ve lo raccontiamo tutto ci sarà anche qualche live magari vi faremo una telecronica live di una regata che sarà proprio decisiva ai fini della classifica finale però però questa è una storia una telenovela di due ragazzi giovani che vanno in barca a vela che a un certo punto in questi due mesi avranno anche un po studiato saranno anche andati a scuola quindi e avranno anche avuto amici insomma qualcosa è successo anche dall'altra sai dall'altra parte l'altra parte della medaglia velica non velica in questi due mesi a studiare ho fatto ho provato a studiare approvato questa è un'altra notica le due notizie sono hanno cambiato le regolazioni ha provato a studiare alessandro il problema il problema è che questi giorni dovevo studiare in questi giorni ma non ho aperto il libro ho fatto il passo di portarmeli ma sono rimasti chiusi nello zaino però già il fatto di averli portati insomma indica una volontà che nei confronti magari qualche professore ci sta seguendo da casa speriamo speriamo ci facciano tif anche anche loro per noi senti fede tu libri l'hai portati io libri li ho portati giustamente sono rimasti dentro no un giorno diciamo aperto la cerniera ho detto dai tiriamo fuori il libro di foscolo niente non c'è stato verso le ugo foscolo un po anche lui un po pigro che poteva anche lui venire un po di vivacità no ci siamo dedicati alle femmine che sono sempre importanti quindi leopardi magari no no siamo siamo stati impegnati abbiamo ci siamo divertiti siamo sbagati un po senza perdere di vista qual era l'obiettivo principale però professori a onor del vero sappiatelo intanto qui c'è in palio mondiale europeo insomma mondiale giovanile quindi noblesse oblige ma i libri sono qua sono con noi sono nello zaino anche ugo foscolo è della partita insomma quindi non lasciamo niente per strada allora parlando con le vostre amiche carlotta e camilla scodni che le altre protagoniste di queste storie abbiamo parlato in conclusione di cosa significa la vita di due ragazzi che scelgono di fare gli atleti di uno sport complesso completo importante come la vela e nello stesso tempo gestire la propria vita la propria adolescenza il proprio la propria giovinezza quindi la scuola gli amici le cose rinunce si fanno con gioia pesano c'è qualcosa che dici mannaggia la miseria sta vela mi sta togliendo delle cose oppure no la vela viene comunque prima di tutto allora la vela viene prima di tutto anche se per esempio sabato sera o in questi giorni qua qualche amico mi chiamava un po viene male però alla fine non c'è storia cioè preferisco 100 a 0 essere qua divertirmi in barca qualunque siano le condizioni ma il sabato sera non tiene 100 a 0 dice alessandro cioè la vela restituisce tutto quello che apparentemente toglie 100 a 0 io dico 90 10 perché comunque io sono uno a bologna diciamo da balotta uno che sta in compagnia gli piace stare con gli amici fare fare quello che fanno i giovani alla nostra età però comunque c'è questo quello che ha detto lui quando sei lì davanti in barca magari davanti che ti stai giocando le prime posizioni il sabato sera è proprio l'ultimo dei problemi l'ultimo delle preoccupazioni senti cosa farete adesso tornando a casa e in vista quest'altro mese che ci separa dalla prossima volata finale di ravenna beh allora siamo siamo ravenna giochiamo in casa quindi stiamo tutti i weekend li cerchiamo di ricordarci quali sono le cose principali che bisogna fare a ravenna cosa principalmente che evento viene ravenna quindi rimettiamo un po le basi facciamo mente locale su che punti dobbiamo lavorare diamo il massimo confermi io questi due giorni me li prendo di pausa perché sto arrivando che sono un po stanchino ma dopo sì forse sabato va dallo stadio però dopo weekend dopo vedere il bologna forza bologna e bologna con mia e lo vici ha rialzato bene la testa adesso si salva si salva speriamo poi weekend dopo tutti gli unici velisti tifosi del bologna c'è anche zambelli grande tifoso del bologna il navigatore solitario michele zambelli che era sponsorizzato anche il lumia c'era lo stesso sponsor della squadra è venuto è venuto a scuola nostra michele conosciamo bene vedi che belle storie che c'è la vela bravi professori che avete invitato anche zambelli a scuola fulmini a saette supreme questa è la vela dei caldari caldari stori tornerà per la terza puntata decisiva il gran finale finale di stagione a ravenna ciao ciao a tutti